Si aprirà il 17 gennaio in udienza preliminare, il processo per il disastro funiviario del Mottarone. A 969 giorni di distanza da quella maledetta domenica, il 23 maggio 2021, inizierà il percorso per l'accertamento delle responsabilità dell'incidente che ha provocato 14 morti e il ferimento di un bambino, unico superstite. Il luogo scelto per l'avvio della fase giudiziaria Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.